Un dialogo in trasparenza? Assolutamente sì, anche perché il Parlamento si dialoga, quindi non vediamo perché alle motivo noi non dovremmo ascoltare. Quello che abbiamo sempre detto, non stiamo invece agli accordi, tu mi dai una poltrona, io ti do un segretario, tu mi dai un questore, io ti do una presidenza di commissione.